Il claim di Ape Social Wear che non è un marchio come tutti, è un marchio invece, un brand di moda sostenibile che crea magliette, abbigliamento e gadget veicolando messaggi positivi, frasi che riportano temi solidali e cristiani. Ad inventare è il fondatore di questa impresa etica e poi scopriremo perché, è Alessandro Ferrari che abbiamo in collegamento. Buongiorno e benvenuto Alessandro. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Ci siamo legati proprio anche al discorso che faceva il padre Marco Ivan Rupnik nel nostro spazio dedicato alle parole da custodire in cui abbiamo parlato di arte, abbiamo parlato di bellezza e la bellezza e il bene sono messaggi che veicolate proprio con questo vostro marchio, con questo vostro brand di moda sostenibile. Ci racconti com'è nata l'idea? Sì, l'idea è nata un po' perché io ho sempre fatto l'educatore in oratorio, lavoravo proprio all'interno di vari oratori della diocesi di Milano e mi accorgevo che in oratorio entravano dei ragazzi che volevano fare gli animatori. Ed è vero che l'abito non fa il monaco, però questi ragazzi che entravano in un oratorio avevano delle magliette che magari avevano su delle parolacce o dei doppi sensi un po' strani. E allora da lì un giorno uno di questi ragazzi ha detto, senti, tirati via questa maglietta che non possiamo presentarci così ai genitori e a questi ragazzi. Allora gli ho dato una maglietta bianca e con un pennarello indelebile ho scritto su una frase che è il bene genera bene e da quel gioco nato in oratorio ormai sono passati di più di 17 anni e Ape è un vero brand. È un vero brand e mette insieme due mondi che ti appartengono perché tu parlavi del tuo lavoro in oratorio, sei laureato anche in scienze religiose però nasci grafico professionalmente. Quindi a un certo punto hai capito che il mondo della moda, il mondo dell'arte, della grafica e il mondo della religione potevano stare insieme. Questa avventura imprenditoriale unisce perfettamente questi due mondi che uno può immaginare siano lontani e invece no. Sì esatto, ho voluto proprio unire i valori che per me erano importanti perché più andavo avanti nel mio cammino spirituale, più facevo l'educatore e nevo contatti dei ragazzi e delle famiglie e più mi rendevo conto che c'era anche bisogno di una cosa del genere, cioè di voler comunicare il bello e di voler comunicare dei valori anche attraverso una semplice t-shirt, anche attraverso una felpa dell'abbigliamento. Perciò ho pensato proprio di creare un brand che sia legato al bene, ma non semplicemente facendo una maglietta, proprio un total look insomma con una produzione, con una filiera controllata. Intanto abbiamo parlato di moda sostenibile e di impresa etica per un motivo ben preciso perché le magliette sono realizzate da cooperative sociali dove lavorano ragazzi con disabilità e una percentuale del ricavato, della vendita di ogni maglietta viene donata al Serming, l'arsenale della pace di Torino, giusto? Esatto, sì, durante uno dei miei ritiri in oratorio dove ho portato dei ragazzi, ho conosciuto la realtà del Serming, di Ernesto Olivero e da lì sono stato colpito dalla parola restituzione e allora lì ho pensato che dovevo restituire questa cosa qua di Ape che avevo creato. L'idea è stata di voler comunicare soltanto dei messaggi positivi attraverso la moda, su ogni vendita una percentuale, ridonarla in beneficenza e poi dato che avevo delle richieste numerose di queste maglie da lì è stato il pensiero, ho detto da chi è che le faccio produrre? E da lì sono andato subito alla ricerca di persone che avevano bisogno di lavorare, ma soprattutto di persone che erano anche legate a un'attenzione particolare e perciò lì la scelta di cooperative sociali dove lavorano soltanto ragazzi con disabilità. Perciò Ape ha una filiera che parte dal lavoro di ragazzi con disabilità, dalla scelta di usare soltanto il cotone biologico, dalla scelta di comunicare solo messaggi cristiani e positivi e da qui generare dell'altro bene perché su ogni vendita poi una percentuale viene ancora ridonata in beneficenza. Ecco perché proprio c'è una filiera, un cerchio che si chiude, questo bene che genera bene. Intanto stiamo vedendo scorrere anche alcune, perché sono tantissime, ecco, delle magliette con le frasi, varie frasi. Come le scegliete? Visto che ce n'è qualcuna anche di San Giovanni Bosco, chi sceglie le frasi? Secondo quale logica e quale criterio le scegliete? E poi volevo chiederti se avete realizzato delle magliette speciali anche su richieste particolari. Beh, allora intanto le frasi sì, di notte, mentre sto guidando, i consigli degli amici che mi scrivono sui social, mi dicono dai Ale, ma facciamo questa maglietta perché ho sentito questa frase. Sono tante le occasioni. E poi vabbè, l'anno scorso è stata bellissima l'occasione, abbiamo realizzato le magliette per il gruppo musicale del Gen Rosso. È stata una cosa molto bella per noi, penso ancora al mio donna dell'oratorio che mi faceva ascoltare le loro canzoni durante la messa. E poi sono stati loro che hanno chiesto a noi di api di realizzare una maglietta per il loro singolo, per un loro concerto. E questa è un'avventura favolosa, insomma, questa di ape. E tra l'altro credo che sia anche un'avventura contagiosa in qualche modo, perché appunto, come abbiamo detto, il bene, come c'è scritto anche su una delle vostre maglie, il bene che poi credo sia la prima maglia, pensate in assoluto, il bene genera bene e siamo contenti di aver raccontato questa vostra storia, Alessandro. Ti ringraziamo per essere stato con noi e vi auguriamo un buon lavoro. Poi ci rendiamo conto anche dal tuo racconto davvero di quante cose belle nascano anche negli oratori, di quanto l'incontro, la comunità sia importante anche per favorire dei processi creativi, per far nascere nuove idee. Quindi ci auguriamo che tutti gli oratori che hanno sofferto anche tanto durante questa pandemia tornino a riempirsi il più possibile, giusto? Sì, ecco, noi proprio abbiamo, proprio il nostro brand è nato al centro dell'oratorio, dal cortile dell'oratorio e poi si è sviluppato nella moda anche di tutti i giorni, perché adesso noi abbiamo un negozio, abbiamo un sito internet e perciò un e-commerce dove serviamo tutta Italia, anche se i nostri primi clienti sono sempre gli oratori, i gruppi, le associazioni che chiedono o le nostre maglie, le nostre grafiche o addirittura di realizzare la loro idea, perciò è il bello che ogni oratorio può realizzare la propria maglia per i propri ragazzi, gli educatori e poi ci sono i singoli che comprano direttamente dal nostro e-commerce la nostra moda. Intanto chiedo alla regia di mostrarci il vostro sito internet, così chi ha voglia di approfondire, di conoscere anche di vedere quali sono i vari prodotti che appunto fate, eccolo qui, il sito, aiutami tu Alessandro con il link perché io non riesco a vederlo da qui. E' appessocialware.com Perfetto, è facilissimo e noi ti ringraziamo per aver portato qui la tua storia, buon lavoro, buone cose a tutti voi. Grazie a voi di tutto.